Com'è il clima della manifestazione? Sono in tanti? Sì, molti, molti, guarda, ma tanti, veramente tanti. Sì, insomma, il clima è abbastanza caldo e adesso in questo momento le grida sono buffoni, buffoni, renzi, dimissioni, insomma, è abbastanza caldo ecco il clima. Quindi vedo, sì, ecco qua, telecamere, insomma, c'è molta rabbia, sicuramente. Viene considerata quindi una grande manifestazione? Beh, sì, sì, sicuramente comunque non l'ultima, nel senso che comunque anche se oggi, statera qui al Senato, verrà posta la fiducia e comunque questo grande movimento di protesta comunque non ha alcuna intenzione di fermarsi, di simollare. Quindi si andrà avanti, poi si studieranno altre corne, ma una delle strade da poter percorrere è quella del referendum abbrocativo. Quindi comunque assolutamente non ci si ferma qui. In Piazza ci sono, in Adalcorteos ci sono anche Fassina e Cell, ha troppo po' di Cell, insomma, comunque con Maggiordano sempre di Cell, quindi ci sono anche alcuni esponenti politici dell'opposizione. Considerando che siamo in pieno esame di Stato, gli insegnanti stanno facendo salti mortali per partecipare a questa manifestazione e difendere la scuola di tutti? Sì, anche perché comunque questa è una manifestazione organizzata dalle fili di sindacali di Roma e dell'Azio, ma in realtà comunque ci sono insegnanti anche da altre regioni d'Italia, quindi ha dimostrazione proprio del fatto che è una lotta nella quale si crede e si può portare avanti. Bene, ringraziamo Esther Trevisane dalla regia e mi raccomando teneteci informati man mano che si svolge la manifestazione. Grazie, arrivederci. Grazie, 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 arrivederci.